buongiorno oggi iniziamo quest'altra splendida giornata è domenica il giorno dopo dell'epifania e mi capita proprio una donna non l'ho detto io una donna chiacchierona continua con la spalla alzati un po alzati su iniziamo qui dalle piste di camigliatello con calabria snow academy partiamo dalla scuola sci di camigliatello per un'altra giornata all'insegna del divertimento ciao all'insegna del divertimento e dei sorrisi e della spensieratezza venite a trovarci siamo sempre qui finché terra non ci separi nel senso che comunque la neve ce la stiamo sfruttando fino alla fine aspettando la prossima nevicata buona domenica e noi abbiamo già iniziato da un bel po sono Carlo e sono ritornato per fare un'altra lezione di snowboard ma dobbiamo andare veloci questa volta se dobbiamo diventare più bravi si promesso allora promettiamo dai vediamo con una canzoncina magari io che sono che ho letto l'ho fatta nel letto l'ho fatta nel letto e va bene poi niente l'ha fatta nel letto noi continuiamo la nostra lezione ciao continua il gran lavoro sulle piste di camigliatello è ritornata ormai diventata una fedelissima la chiara ecco che fa mi supera che fa mi supera già chiara che ritorna puntualmente ormai da tre anni a questa parte viene a trovarci per continuare il lavoro e anche per chiara pista rossa concludiamo la nostra lezione con l'ultimo muro a camigliatello della pista rossa con chiara tranquillità morbida precisa morbidosa stop rifallo stop rifallo stop insieme a Giacomo che arriva da Taranto arriva da Taranto sulle piste di camigliatello per questa prima esperienza sullo snowboard diciamo la prima mezz'ora come come ti sembra ma buona buona abbastanza buona abbastanza buona e quindi continuiamo ancora andiamo avanti e portiamo un buon livello ciao ciao adesso vieni da qua guarda sto braccio in posizione la tavola si rimette in linea vieni stai guardando troppo in basso adesso guarda il tapirulano con la spalla guardiamo il sapirulano continua giù continua giù continua giù continua guarda me guarda me guarda me guarda me ok continua continua dritto sulla diritto sulla tavola rotazione della spalla concludiamo quest'altra splendida giornata oggi con una bimba che ritorna a trovarmi qui a camigliatello per la prima volta fece lezione con me ritorna io sono veramente felice di rivederla sulla neve insieme al maestro come si chiama il tuo maestro mi chiamo il mio maestro si chiama Cesco ed è il miglior di tutti no io l'ho detto io allora con Delia continuiamo il nostro lavoro andiamo avanti sulle piste di camigliatello al campo scuola precisamente ma ci sposteremo sicuramente in pista noi ci vediamo anche durante la settimana chiudiamo questa splendida giornata con le immagini di Delia musica musica Grazie a tutti.